Questa mattina a Napoli a Padova i carabinieri della Compagnia di Agropoli hanno dato esecuzione all'ordinanza applicativa della misura cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Vallo della Lucania nei confronti di quattro pregiudicati ritenuti responsabili del reato di associazione per delinquere finalizzata ai furti di sportelli Bancomat in abitazioni, opifici ed esercizi commerciali. L'indagine ha avuto inizio nell'aprile 2018 a seguito di un furto perpetrato ai danni della filiale di un noto istituto di credito di San Marco di Castellabate. Le risultanze investigative hanno accertato l'esistenza di una stabile organizzazione criminosa dedita alla commissione in varie zone della penisola di un numero indeterminato di furti in danno di istituti di credito, opifici ed abitazioni. Colpi pianificati in due basi operative, una presso il capoluogo partenopeo, l'altra nel comune cilentano di Monte Corice, Frazione Giungatelle, presso un'abitazione presa in affitto da uno dei malfattori.